E questa è la scheda di Giordano Marzocchi, il nuovo corteggiatore di uomini e donne. Insomma quello che si è messo subito in mostra nella sua prima puntata in quanto ha fatto notare Maria De Filippi, che qualunque ragazza è scesa lui le ha squadrate tutte, ma molto astuttamente ha subito ribadito, che lui ha visto solamente Ludovica Valli, e secondo me questa impertinenza giovanile, ha colpito molto Maria De Filippi. Sono un po' dubbiosa sul fatto che abbia colpito anche Ludovica Valli, che ha già dichiarato che il suo target sono gli uomini sui 27, ma secondo me invece, ma vediamo per il momento non mi spingo oltre, ma chi è veramente Giordano Marzocchi? Piccola premessa lo abbiamo subito messo come corteggiatore di Ludovica Valli, in quanto Rossella ha intelligato ettari 30 anni e quindi insomma avendo lui unicamente 19 anni, anche se è sceso per un appuntamento al duio, ci sembra un tantino fuori target. Facciamo come di consueto la sua scheda personale di corteggiatore. Scheda di Giordano Marzocchi. Nato a Avezzano Nato nel 1996 risiede a Avezzano Capelli Castano, con riflessi rossi, occhi marroni altezza 1,81 Obbies è uno sportivo nato e pratica sci a livello semi-professionistico. Come vi dicevamo anche dalla scheda Giordano è di Avezzano ridente cittadina ai piedi del Parco Nazionale dell'Abruzzo, dove coltiva la sua grande passione per il mondo dello sci, dove ha molti dei suoi amici e dove è praticamente un professionista. Ama molto la natura, è un ragazzo solare che sa quello che vuole dalla vita. Ama molto gli animali in particolare ha una bellissima cagnolona, che si chiama Chiretta. E come sempre il resto di lui lo scopriremo conoscendo Giordano Marzocchi a uomini e donne, perché non so come mai ma secondo me il ragazzo si farà a strada, voi che ne dite? Grazie. Grazie.